Ciao, sono Gigi D'Atome e il canestro più importante che possiamo fare è quello della salvaguardia ambientale. Ragazzi, possiamo fare una cosa un po' più vera? Cioè, questo è un argomento serissimo, portare via le pietre, le conchiglie, rischi molte salate, poi tutti i danni che fa l'ambiente. Io gioco a pallacanestro in giro per tutta Europa, non è che mi porto dietro la sabbia per ricordarmi la Sardegna. Io la Sardegna me la porto nel cuore. Buona! Come buona! Ciao!